Un saluto dal Tg della Mobilità per Ferragosto, orario festivo per la rete capitolina di trasporto pubblico, orario del venerdì e del sabato per le metropolitane, con le ultime corse dai capoline a l'1.30. Da ricordare sulla metro C la sera ci sono i bus al posto dei treni per i lavori di prolungamento della linea sino al Colosseo. E sulla linea B della metropolitana sino al 23 agosto per lavori di rinnovo dell'infrastruttura nella stazione di Eurfermi, il servizio è interrotto tra le stazioni di Eurmagliana e Laurentina. I treni sono sostituiti dalla linea di bus MB4, il servizio tra le stazioni di Eurmagliana e Rebibbia Ionio resta regolare. Lavori sino al 14 agosto lungo il tratto urbano dell'A24 sulla carreggiata dell'autostrada in direzione del raccordo e chiuso il tratto della tangenziale sino a Portonaccio. Per entrare in A24 è consigliato lo svincolo di via Filippo-Fiorentini. È tutto appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.